buongiorno italia buongiorno roma buongiorno giorgia già va bene così per me la giornata si già va bene così allora io sono venuto a roma anche da morto da morto perché mi ha portato il senatore giannone perché la viva caglianiello a teano non mi faceva passare come mai e come mai domando perché e come mai sua maestà venete dal piamonte a torino e io sono stata a torino cosa c'ha una pergamena per per giorgia per giorgia perché malata firma ma lei l'ha già incontrata altre volte nel pensiero si sia l'ho incontrata quartiere santa rita torino italia io tolomeo raffaele contadino cicerale salerno investe del grande generale giuseppe garibaldi mi sembrava somigliasse a qualcuno comunque chiude viva l'italia unita roma primo giugno 24 quindi il suo obiettivo è farlo firmare da giorgia e firma anche io se vuole giorgia come garibaldi no come garibaldi giorgia e giorgia garibaldi è tutta un'altra storia è chiaro no per